sono giulio spampinato sono commercial asset manager growth team leader per l'italia quindi quello che facciamo è supportare la funzione commerciale per le acquisizioni adesso nel mercato si sta evolvendo verso lo sviluppo il supporto si è spostato anche in questa direzione quindi sviluppo conversion stage development e quant'altro sono in sonedics dal 2017 sì sicuramente è sempre stato un team formato da persone molto valide con grande esperienza quando sono arrivato ero il più giovane sonedics era molto piccola in italia eravamo in 10 io ero il più giovane è sempre stato molto bello che generalmente era possibile trovare le risposte ai problemi del day by day del lavoro dentro la stessa stanza dove ti trovavi c'era tanta conoscenza tra quattro pareti da cui attingere quindi ho imparato veramente tanto ma sul pratico da sempre un altro fattore sicuramente molto bello è che il team dentro cui ho lavorato non è mai stato basato al cento per cento in italia è sempre stato un team fatto di persone sparse per l'europa in spagna in inghilterra principalmente quindi mi ha dato la possibilità di lavorare davvero in un ambiente molto multiculturale su base quotidiana quindi imparando le diverse culture del lavoro diversi approcci a come si fanno le cose diciamo che ogni paese ogni cultura ha delle sue particolarità è qualcosa che impari sono skill che acquisisci sicuramente questi anni mi hanno consentito di crescere molto da questo punto di vista quello che sto cercando di fare è di staccarmi gradualmente dal mercato italiano nel quale ho lavorato in questi anni per affacciarmi il più possibile quantomeno un mercato europeo che è più maturo rispetto a quello italiano meno dipendente dagli incentivi e quindi come guardare al nostro mercato tra qualche anno avendo quindi la possibilità di fare questa attività a un livello ancora più alto e questo è quello che stiamo cercando di fare è una come dire una volontà che ho espresso con i miei manager e stiamo provando insieme a trovare una soluzione già da qualche mese per appunto accontentarmi e raggiungere i risultati che mi sono prefissato che è una bella sensazione cioè essere ascoltato e lavorare insieme per trovare il modo di soddisfare le proprie esigenze o ambizioni se volete sicuramente importante